Ci troviamo all'interno del piazzale del centro commerciale Diano ad Atena Lucana dove ci sarà una due giorni eccezionale con uno spettacolo ricco di emozioni, lo Stuntman Show. Noi siamo in compagnia dei protagonisti di questo spettacolo che si terrà il 3-4 ottobre, siamo in compagnia di Livio Gabriele che è lo speaker ufficiale dello Stuntman Show. Livio, in cosa consiste nello specifico lo spettacolo che offrite al pubblico di Atena Lucana e soprattutto da dove nasce? Allora, il nostro spettacolo è praticamente un'ora e venti di pura adrenalina innanzitutto, andremo proprio a ricostruire tutto quello che è il lavoro dello Stuntman in tutte le sue varie forme, dalla guida acrobatica agli inseguimenti da film, drifting, vere e proprie esplosioni cinematografiche, abbiamo trattori che vanno su due ruote, un camion che si impennano, maggiolini americani e quest'anno, per il tour di quest'anno, abbiamo fatto una bella sorpresa ai bambini, abbiamo i personaggi principali del film Cars, The King e Saita McQueen. È uno spettacolo che ha inizio a marzo e si protrae per tutta l'estate fino all'autunno, avete girato tutta Italia? Guarda le facce dei miei colleghi, si vede benissimo, facce sta anche, sì, arriviamo da un bel tour, abbiamo fatto il sud Italia, siamo partiti in Puglia, abbiamo fatto tutto il giro della Puglia, tutto il giro della Calabria e adesso risaliamo in sopra dalle parti della Campania, Ah è vero, anche la Basilicata è vero, da marzo fino, sì, novembre, fino a ottobre, novembre, adesso decideremo quando chiudere. Maverick Rossi è uno dei protagonisti principali dello stuntman show, è uno stuntman professionista, Maverick, come hai iniziato questa tua carriera, tra virgolette pericolosa ed emozionante? Ah, io sono figlio d'arte e quindi da nonno a papà e adesso tocca a me, sono alla terza generazione di stuntman, ho iniziato a guidare a otto anni e a tredici anni ho fatto i miei primi spettacoli proprio con questo disgraziato alla mia destra. Cosa si prova, cosa provi tu quando sei in pista su qualsiasi tipologia di mezzo e sei lì per far emozionare il tuo pubblico e allo stesso tempo rischi? Sì, rischi però ne vale la pena perché è bellissimo, è un lavoro sport che ti dà un'emozione unica dal primo spettacolo del tour all'ultimo, dal primo minuto all'ultimo minuto di spettacolo. Hai un'adrenalina, un'emozione, una voglia di divertirti e di divertire che è inspiegabile da far capire, però è da provare. Maverick, tu dicevi che sei figlio d'arte perché tuo padre è un noto stuntman. Com'è cambiato questo lavoro da quando hai iniziato tuo padre a oggi che lo fai tu, giovanissimo? Beh, papà poteva distruggere dalle 100-150 macchine a tappa, io neanche una purtroppo. E papà ha lavorato tantissimo in televisione come comparsa, come stuntman. Adesso purtroppo con l'arrivo delle nuove tecnologie con il computer purtroppo ci hanno, diciamo, tolto questo divertimento. Sean Carroll invece è uno stuntman giovanissimo, anche lui protagonista di questo show che si tiene qui davanti al centro commerciale di Anno. Quando hai iniziato? Perché tu sei giovanissimo, quanti anni hai? Io ho 13 anni, ho iniziato due anni fa a fare gli spettacoli. E cosa ti ha spinto a fare lo stuntman? Come hai deciso? Quando è stato? Il giorno in cui tu hai deciso di voler fare questo lavoro e soprattutto perché? Questa decisione l'ho presa anche grazie ai miei cugini che mi hanno insegnato a guidare. È bello fare questo spettacolo, l'adrenalina. Che tipo di veicolo guidi durante lo stuntman show? Guido una BMW viola. Quindi Maverick, non ci sono dei limiti di età per partecipare a questo show che voi proponete? No, no. Come dicevo prima, io ho iniziato a guidare a otto anni. A otto anni, come mio cugino, come mio fratello, facciamo la gavetta. Quindi piano piano iniziamo dalle cose più semplici per poi andare a fare tutto lo spettacolo. Però non abbiamo limiti di età. Livio, oggi è la prima giornata, si concluderà il 4 ottobre. Vogliamo invitare ancora il pubblico del Vallo di Diano e dei territori limitrofi a venirvi a trovare qui ad Atena Lucana? Assolutissimamente sì. Invitiamo tutto il pubblico, sia di Atena Lucana che dintorni, a venire a divertirci con noi. Anche perché è preciso che al nostro spettacolo i veri protagonisti dello show è proprio il nostro pubblico. Possono partecipare dal bambino di 5 anni, 6 anni, fino alla nonna che ne ha 95. Mettiamo, se viene il suo nonna, facciamo impennare anche il suo nonna col camion. Però preciso, preciso soprattutto per tutti i vostri ascoltatori, che comunque è uno spettacolo eseguito da professionisti. Dunque noi ci teniamo, ci teniamo a tutto il pubblico che verrà a vedere il nostro show. Mi raccomando di non emulare perché è fondamentale per noi, perché questo è uno sport, viene eseguito in pista e con tutte le misure di sicurezza. Noi precisiamo sempre questo.